Sono molto felice di tornare qui, dove mi sono trovato molto bene. Ringrazio la società, il mister e i suoi collaboratori per la fiducia che mi hanno dato e cercherò di ripagare tutto dentro al campo. Sicuramente questo campionato sarà molto difficile come sono stati gli altri campionati. La differenza la farà la forza del gruppo perché la squadra avrà bisogno di tutti i giocatori. Noi più forti siamo fisicamente reggeremo di più e speriamo che andrà tutto bene. L'anno scorso abbiamo passato un anno bellissimo, pieno di sofferenza. Speriamo che quest'anno passiamo un anno difficile, però con meno sofferenza e di raggiungere un obiettivo importante come la salvezza. Ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi, mi hanno scritto belle cose. Io, come ho detto prima, sono stato molto bene qua. Abbiamo i tifosi più forti d'Italia e io, più che dimostrarlo, quando valgo in campo non posso dire niente. Io sono arrivato qua carico a 2000, non vedo l'ora di iniziare a giocare per questi colori. I tifosi li vogliamo vicino come sono sempre stati e fra sei giorni abbiamo la prima gara ufficiale e daremo tutto per fare la prima vittoria alla Recchi.